partiti in testa il Borgo di San Giorgio con il Borgo San Giacomo, Borgo San Luca ancora Borgo San Giorgio e Borgo San Giacomo con Rettilineo davanti alle tribune con San Giacomo, San Giorgio, San Luca, San Giovanni, San Benedetto, Santo Spirito e San Paolo ancora San Giorgio in testa, passato in questo momento da San Giacomo che allunga il Rettilineo opposto a quello delle tribune seguito da San Luca San Giorgio ancora San Giacomo in testa con un discreto margine ultima curva Rettilineo d'arrivo con San Giacomo San Luca San Giovanni, San Benedetto, San Paolo e San Giorgio abbiamo già praticamente il primo vincitore Thomas Arqua che ha vinto il Paglio di San Romano nella Corsa dei Putti ha vinto Borgo San Giacomo direi con un netto distacco sul secondo Diego Gesini per Borgo San Luca direi una vittoria schiacciante terzo se non ho visto male dovrebbe esserci Francesco Borsetti però aspettavo che arrivasse la conferma dello speaker perché dove siamo, dove ci troviamo non abbiamo una visione totale però insomma di questo siamo certi Thomas Arqua si è classificato primo con il Borgo San Giacomo e Diego Gesini secondo Borgo San Luca quindi si è già aggiudicato per questa edizione 2019 il Paglio di San Romano della Corsa dei Putti dicevamo il Paglio realizzato da Giulia Schiavina